Giulia, che imparato ha fatto? Il tuo personaggio è scarso. Mi piace verticalizzare. Faccio solo gol spettacolari. Bravo, Monti! Non so difendere, cerco di attaccare. Tu tira da tutte le parti, tu tira! Tutti dietro, Kevin Lasagne davanti e vai! Ma che è il 92 che è scarso? Ah, è Kevin. Ma che c'ha sto portiere? Oh, è un fenomeno! Tu tira da tutte le parti, tu dira, tira! Giura a Kevin Lasagne è diverso. Giura a Kevin Lasagne è diverso. Giura il f***a! Giura giusta male. Giura! Giura! E' il die! E' il die! E' il die! E' ilushman! È il da para per Caprari di testaaaaa! Ti c***a! Buona tina! Buona tina! Buona tina! Ma metti tattico. Sto cercando di fare Devo fare un cambio va Non ti può fuori basta Ho avuto un degno avversario No Bravo Pensavo forte Pensavo che ero forte io Grazie